Ciao, sono il dottor Max, in questa serie di video trattiamo i sintomi delle varie malattie o patologie. In questo video analizziamo il sintomo. Coxalgia, cause e sintomi. La coxalgia è espressione di un processo patologico a carico dell'articolazione coxofemorale, situata tra la testa del femore e l'osso iliaco del bacino. Questo sintomo si presenta con un dolore all'anca tipico, localizzato in sede inguinale e, talvolta, in regione glutea. Inoltre, è possibile che tale manifestazione si irradi lungo la parte anteriore della coscia fino alla faccia mediale del ginocchio. La coxalgia assume un carattere gravativo in occasione del carico sull'articolazione o dei movimenti dell'arto in genere, mentre viene alleviata dal riposo. Ciò indica la presenza di uno stato irritativo locale dei tessuti o di un'alterata meccanica articolare. La coxalgia può manifestarsi in seguito a traumi, lesioni croniche da uso successivo, processi degenerativi o infiammazioni acute e croniche dei tessuti articolari. L'artrosi dell'anca, o coxartrosi, è la malattia più comune che possa colpire l'adulto. Si tratta di un processo cronico degenerativo che provoca la scomparsa graduale dello strato di cartilagine che riveste la testa del femore e del cotile. La coxartrosi si instaura progressivamente e conduce ad una limitazione articolare crescente. Quando il dolore all'anca è ad esordio rapido, invece, è necessario prendere in considerazione un'infezione, un'artrite infiammatoria, una tendinite o una frattura. Quest'ultima evenienza è molto frequente negli anziani, in particolare tra coloro che soffrono di osteoprosi. La coxalgia può risultare anche da una displasia dell'anca, ossia una malformazione congenita che porta gradualmente la testa del femore a dislocarsi dalla cavità acetabulare, destinata a contenerla e a farla ruotare al proprio interno. Questa alterazione dei capi articolari si deve ad un anomalo sviluppo in epoca intrauterina ed è favorita da una predisposizione genetica e da vari fattori ambientali, esempio posizione podalica del feto durante la gestazione, marcata la sita dei legamenti dell'articolazione eccetera. Tra le cause della coxalgia rientra la lussazione traumatica, evento raro che si può verificare in caso di impatto intenso, ad esempio per incidenti stradali che comportano l'urto del ginocchio contro il cruscotto. In questa situazione, la testa del femore esce dall'acetabolo e la persona avverte un dolore molto intenso e l'impossibilità di muovere la gamba. Altre possibili cause di coxalgia comprendono periartrite, malattia infiammatoria che coinvolge i tessuti di natura fibrosa che circondano un'articolazione, ostionecrosi della testa femorale, artrite reumatoide, fibromialgia e tumori ossei coinvolgenti il femore prossimale o l'acetabolo. Possibili cause di coxalgia. Coxalgia è un sintomo comune o probabile di queste malattie. Cause comuni. Artrite reumatoide, artrosi, cause rare. Artrite, ostionecrosi, osteoporosi, sindrome fibromialgica. Grazie per avermi seguito fino a qui, le informazioni riportate sono solo indicativo e vanno approfondite con il medico di fiducia. Spero di esserti stato utile, metti un mi piace e iscriviti al canale, sarai informato sui nuovi argomenti trattati sulla tua salute. Fonte. mypersonaltrainer.it